Occhiuto è stato investito dal Consiglio Comunale di parlare con lei, l'ha chiamata? No, fino ad ora non ho avuto nessuna chiamata, mi dispiace che si sta perdendo tempo rispetto alla possibilità di realizzare una grande opera necessaria alla città di Cosenza, alla più grande provincia della Calabria, che è un nuovo ospedale per il quale noi abbiamo allocato risorse importanti che sono già state deliberate dal CIP e che ancora non siamo in grado di trasformarle in cantiere perché si sta perdendo tempo. Siamo impegnati su più fronti, la densità criminale del territorio è nota a tutti voi, e a tutti noi. Questo impegno ovviamente è particolarmente gravoso anche in ragione delle attuali condizioni di organico della Procura della Repubblica di Lamezia Terme che ha visto il trasferimento di due magistrati e quindi il verificarsi di una scopertura di organico pari al 50% che per un ufficio di procura di piccole e medie dimensioni, quale è Lamezia Terme, insomma, si avverte parecchio. In Calabria si trova uno dei 45 siti definiti di interesse nazionale per le bonifiche, che è il sito di Crotone. Alcune decine di siti che la regione ha definito a elevato rischio ambientale e sono generalmente zone in cui sono stati smaltiti rifiuti anche di tipo industriale in modo incontrollato e quindi bisogna capire se questo possa aver creato un rischio per la salute della popolazione.